Buongiorno, buongiorno, sono Paolo, Paolo da Pisa. Da dove? Da Pisa. Da Pisa, mi dica. Sì, no, niente, io conosco già la Di Maio perché ho avuto un modo di parlarci. No, niente, vi volevo dire, so che per le 5 stelle la vita è difficile perché avendoli tutti contro non è evitato facile di vedere. Comunque vi faccio i complimenti perché da parte nostra, da parte mia, sono 8 voti che vi diamo. Siamo una famiglia di 8 persone perché siamo rimasti con una sponda, l'unica sponda che noi poveri italiani, messi come siamo in questo povero paese, si dà ancora una speranza. Grazie del servizio, è la promessa. Ciao, ciao, vai. Buona giornata, grazie.